Assessore Terzi, oggi una conferenza stampa per tranquillizzare la popolazione di Paderno Lugnano. Sì, per ribadire quanto era già stato detto dagli organi di informazione, ma in particolare nel corso della seduta della scorsa settimana del Consiglio regionale. Non esiste a Paderno un rischio salute o un rischio ambientale. C'è una forte preoccupazione anche della Regione per quanto riguarda questi odori che effettivamente, sempre meno negli ultimi giorni, ma a dicembre in maniera un pochettino più costante, si sentivano. Abbiamo approfondito, abbiamo verificato che appunto non c'è alcun rischio, stiamo cercando le cause e soprattutto abbiamo imposto un intervento immediato d'emergenza e a cui seguirà un intervento strutturale che si realizzerà in tre primi giorni di febbraio. Dunque un'azienda di stoccaggio, di riciclo di rifiuti, ogni tanto qualche problema può capitare. La Regione Lombardia, insieme ad ARPA, insieme all'ASL, è stata veloce a cercare di porre rimedio. Sì, prima di tutto questo è un impianto che serve per sostanzialmente riciclare quelle che sono le ceneri degli inceneritori per evitare che vadano in discarica e che abbiano quindi invece un nuovo utilizzo, una nuova vita che è appunto il materiale per le costruzioni sostanzialmente. Quindi un riutilizzo di quelli che sono rifiuti al 100%. Questo è un impianto sperimentale e come tutti gli impianti sperimentali in effetti durante la realizzazione qualche problema l'ha dato. Problemi che non erano assolutamente prevedibili e a cui abbiamo cercato di dare risposta con interventi assolutamente immediati da parte di ASL, da parte di ARPA per scongiurare rischi salute e ambiente e poi da parte di Regione per quelle che sono le prescrizioni che dovranno essere realizzate. Dunque, Paderno Dugnano può stare tranquilla? Io direi che può stare tranquilla perché non c'è mai stato rischio per la salute della popolazione. Da quando sono iniziati i primi disagi per gli odori che ovviamente sono percettibili soprattutto al naso umano ma non al naso elettronico è iniziato un lavoro sinergico fra tutte le istituzioni che ha portato all'evidenza che non esiste rischio per la salute documentato anche dalla ricognizione fatta dall'AS Milano 1 sulle aziende ospedaliere limitrofe. C'è rischio che situazioni del genere si ripetano? Credo che non ci sia rischio di ripetersi di questa situazione anche perché come è stato detto in conferenza stampa il monitoraggio ha chiesto all'azienda di adottare fin da subito azioni, operazioni che riducessero anche il disagio olfattivo. Da subito.